Buongiorno a tutti, proseguono le nostre interviste a direttori di musei, parchi archeologici, istituzioni culturali e la nostra ospite di oggi è Simona Raffanelli, direttrice del Museo archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia e anche a lei poniamo un po' le stesse domande, come è andata in questi mesi di chiusura e qual è stato e qual è oggi il rapporto con il nostro pubblico? Grazie Ale, parto con ringraziamento perché è d'obbligo. Grazie anche agli altri giovani dello staff che tengono con me il museo e le aree archeologiche ci siamo ritrovati a dire cosa facciamo, come raggiungiamo, come tutti gli altri, appunto il nostro pubblico. Allora cosa abbiamo fatto? In particolare con Francesca Paris e Costanza Guaratesi, le due archeologhe, lavorando a casa nei due mesi e qualcosa di chiusura, abbiamo mantenuto i contatti col pubblico con degli intrattenimenti a tema. Per l'8 marzo avevamo preparato, come ogni anno ormai da molti anni a questa parte, un percorso a tema, una visita legata agli oggetti, al mondo delle donne, quindi una visita al femminile all'interno delle sale del museo. E così abbiamo settimanalmente quindi intrattenuto il nostro pubblico con questi incontri tramite Facebook e YouTube, i canali social e virtuali. È stata anche una nuova sfida, perché no? In questo mi hanno aiutato i più giovani del mio staff, con cui per fortuna a Betulogna ci eravamo confrontati, ma relativamente a un altro ambito, quello dell'aumento del pubblico, diciamo, nella direzione dell'accessibilità universale. In questi mesi di chiusura abbiamo potenziato proprio questi strumenti e questi canali, facendo itinerari che cominciavano a preparare noi e il nostro pubblico ad approfondire il tema della riscoperta di Betulogna ad opera di Sidoro Falchi. 27 maggio 1880, 140 anni dalla passeggiata che Isidoro Falchi, con le monete di Betulogna, con la scritta Vattle in mano regalateli da un amico, fa sul colle di Colonna di Buriano, dall'avvio con una manica di volontari agli scavi e riscopre Betulogna, un evento in diretta Facebook. Quindi virtuale, che devo dire, ha raggiunto un numero enorme di persone, 1500, 1470, un quarto d'ora fa. Quindi noi, gli eventi, per dare qualche cosa di nuovo al nostro pubblico che ci ama, e sono sicura, anche dalle altre regioni verrà a visitarci, perché la voglia di muoversi e di venire nei musei c'è. Non c'è dubbio che insomma la gente, il pubblico, il pubblico limitrofo, il pubblico anche più lontano, lontano a noi abbia voglia di ricominciare. I musei, come i musei, come i parchi, hanno un ruolo sociale, di aggregazione, che a questo punto è ancora più fondamentale dopo tutti questi mesi di chiusura. Possiamo diventare anche oasi, cioè oltre che donatori tramiti di cultura, diventiamo anche delle oasi privilegiate per le famiglie. Quindi stare bene all'aria aperta o nella cultura o nel museo in sicurezza. Questa di oasi protetta è veramente un valore aggiunto su cui ad oggi non avevo riflettuto. In chiusura vuoi dirci un po' quali sono le novità allora che offre il museo a livello di orari, se ci sono state delle modifiche, se ci sono già degli eventi. Sì, gli orari sono dall'altro giorno e per tutta l'estate, dalle 10 alle 14 un'ora di chiusura e dalle 15 alle 19. Tutti i giorni tranne il lunedì che è chiusura, ma cercheremo almeno nei mesi e nel centro dell'estate di vedere di poter aprire tutti i giorni. L'ingresso è gratuito, così al pari di quello delle aree anche il museo con tutti i suoi eventi è visibile gratuitamente. Per gli eventi prossimi prevedo a fine giugno, spero nella data del 25, un evento sia dal vero che in streaming e in diretta dedicato ai 20 anni di riapertura del Museo di Vetulonia dedicato a Falchi e in luglio una mostra sia in presenza che con supporti, diciamo, di tipo diverso, mediatici, in luglio per le notti dell'archeologia. Con tutte le conferenze in piazza, anche lì in presenza e registrate che siamo abituati a fare tra il luglio e l'agosto nelle sere estive. Quindi diciamo che cercheremo di arricchire ugualmente l'offerta e di cambiare le cose il meno possibile. Cioè non andando a diminuire, ma utilizzando la cosiddetta realtà aumentata, le dirette, solo per arricchire e per raggiungere chi davvero non può, non può avvenire. Per gli altri vi aspettiamo a Vetulonia. Questo è un bellissimo concetto di accessibilità e un bellissimo invito pieno di ottimismo. Ci auguriamo insomma che le condizioni non facciano altro che migliorare nei prossimi mesi. In generale tutta la Maremma può essere definita un'oasi da questo punto di vista per l'accoglienza dei visitatori, ma anche per la riscoperta da parte degli abitanti. Quindi la vostra offerta mi sembra davvero notevole. Avete lavorato tanto e l'invito a ritornare a scoprire il museo di Vetulonia, le aree archeologiche di Vetulonia, è sempre valido oggi più che mai. Grazie Simona e speriamo di rivederci presto. Di persona. Grazie. Grazie a te. Ciao.